Un tempo si pensava, la lacrima cadeva, che per molti giorni, evacuati le case, lasciati i figli, moltissimi sofferenti e uccisi e torturati e i poveri che cercano la libertà. Ma trovano il massacro già, questi potevano forse diventare cattivi, questi potevano forse lasciarci l'anima, ma poi qualcuno pensò che ancora più cattivamente si può farli brillare, farli sognare, e poi vicinamente lasciarli cadere giù. Quanto mi han preso le mani, quanto ci han tenuti, quanto ci hanno baciato, ma poi siamo caduti giù, fino a perdere l'anima. Oh yeah.